Sì, esatto, sono rifugiata politica che è scappata da Odessa, dico bene? Sì, esatto, sono rifugiata politica che è scappata da Odessa nel 2015. Perché? Perché sono stata con i miei amici manifestare pacificamente contro il colpo di governo che è accaduto in febbraio 2014. Siamo stati in 2 maggio 2014 bruciati, vivi, le donne violentate, ragazzi uccisi, sia donne sia anziani e così lo Stato, Stato ucraino golpisto, filo nazista. Volevo mostrare che nessuno non può dire qualcosa contro. Dice, succederà così come Odessa e Dommaggio, saranno bruciati e uccisi. Quindi, scusi, scusi signora, signora Olga, quindi lei è scappata perché ci dice che lì dove era, ok? Voi vi opponevate a ciò che era successo e il risultato di questa opposizione era violenza, diciamo, a tutto campo. Questo lei dice? Era violenza sanguinata, si è fatta da nazisti governati da governo ucraino golpista. Dove è Odessa? E io ho scappato perché potevo essere uccisa da loro, anche prima sono stata licenziata. È una bella spilla, signora. E poi sono scappata perché ho capito che sono sotto pericolo. Siamo nazisti. Ha diritto di vivere perché ha quella spilla? Sì, è purtroppo sono stati nazisti che uccidevano le persone, è un proprio ultimo non uccidere. Sì, è vero, è vero, è vero. Oggi ci sono i ragazzi, che hanno detto che i ragazzi vedi. Ma il Mare è giusto, il nostro amore Bocchina, il mato, si scopo. Tutti i ragazzi? Tutti i ragazzi. Il primo giorno, 24 stessa, i procuratori, l'Iberia, l'Iberia. Ma il ragazzo, l'Iberia, l'Iberia, l'Iberia. Ma che puoi poterire? Pensate che siamo ratti? Cosa che hanno fatto? Tutti i ragazzi, tutto sbagliato, tutto. Non ci siamo ancora un po' di ucrania, non ci siamo ancora un po' di ucrania. in Mariupol, che chiede una entrega delle armate per parte del ejército ucraniano per evitare più muerti e i combattamenti sono reanudati. Mientras tanto, il Kremlin ha detto che non ci sono le condizioni né la volontà politica di arreglar il conflitto per la via diplomatica e ha dato la ordine a suo ejército in Ucraina per che continui con la operazione Z. No. Vagatstie, voga vittorius, ti avverso. Strasbile per te dalle dalle di morte, un te tu stai. Tu non te živi in un'altra, e tu non te živi in un'altra, Se tu devi andare a fare la maniera, E io ti chiede solo te le chiede, Puede che sia più facile, E tu non te živi in un'altra. Amén. Mosca è afraid of our army, so they are fighting civilians. This is a state terrorismo. That is why Kremlin must or must be stopped, because it will go further. It will attack other countries. Today, in order to save the lives of Ukrainians, it's necessary to strengthen sanctions against Russia, disconnection from the sleep, embargo on the sale of energy, the withdrawal of business from Russia. All this will deplete rambling of resources of further aggression. To be continued... To be continued... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.